Onorevole Andrea del Mastro delle Vedove, Sottosegretario di Stato all'Emissaria della Giustizia, siamo qui alla mezza terme per la riforma della giustizia. Una riforma equilibrata che conferisce nuovi diritti ai cittadini ma che nel contempo non depriva la magistratura di un solo strumento di indagine per accertare i più gravi crimini, in particolar modo le intercettazioni nei confronti di criminalità organizzata. Il centrodestra a Traino Meloni non depriverà mai la magistratura di strumenti per accertare i più gravi crimini. In Calabria Fratelli d'Italia ricopre un ruolo molto importante? Io devo dire che in Calabria Vandaferro ha rappresentato sempre un baluardo di legalità e di questo noi siamo particolarmente orgogliosi perché è la più bella carta di identità di Fratelli d'Italia. Grazie 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 a tutti.